Bello non ti passa più, te la sei voluta tu, vuoi la bicicletta e poi pedalare i cazzi tuoi. Livello 1, pupazzo patetico, vestita a festa, luna, pranzo dei suoi, signora sa una pasta a forno così non l'ho mangiata mai. Livello 2, l'interrogatorio, ma con mia figlia tu che intenzioni hai? Lei ha bisogno di uno serio, spero non ci deluderai. Poi di corsa dagli amici del bar, almeno per mezz'ora un po' di tranquillità. Ma da come guardano, sembra che mi dicano, bello non ti passa più, te la sei voluta tu, vuoi la bicicletta e poi pedalare i cazzi tuoi. Livello 3, le menate da panico, non sei lo stesso che eri un anno fa, eri romantico, più spesso sento già che non durerà. Livello 4, gli autarini si scoprono, mollato in tronco senza dirne che va. Telefonate, notti in bianco, perdita della dignità. Poi di corsa dagli amici del bar, farò finta di niente che nessuno lo sa. Però mi conoscono, e so che capiscono, bello non ti passa più, te la sei voluta tu, vuoi la bicicletta e poi pedalare i cazzi tuoi. Livello 5, almeno ci siamo noi, non sarà tanto però ci basterà, aperitivo, cena fuori, approvata l'unaminità. Livello 6, a volte ritornano, mi vedo in fondo al ristorante con lui, con degli amici tanto antichi che sembrate antichi anche voi. Io distinto te lo direi, ma con uno del genere che cazzo ci fai? Però in fondo è giusto così, perché sono sicuro che con quello lì, bella non ti passa più, te la sei voluta tu, vuoi la bicicletta e poi pedalare i cazzi tuoi. Grazie. Grazie. Grazie.